Commentare una giornata brutta, cosa è successo Lorenzo? Non lo so, sicuramente avremmo dovuto fare di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Soprattutto perché il Pescara è durato 5 massimo 10 minuti nel primo tempo, poi solo Ancona. Io credo che comunque nel primo tempo abbiamo creato dei presupposti per fare gol, sicuramente gol preso all'inizio del secondo tempo, ci ha un po' tagliato le gambe. Sulla tua posizione, oggi ancora da mezzala, però la tua miglior prestazione in maglia bianca azzurra, io mi ricordo quando sei entrato da esterno alto offensivo, ti senti più offensivo rispetto a quel ruolo di mezzala? Nel senso che io sto lavorando un po' in tutti i ruoli, però nel senso che io sono a disposizione del mister dove decide lui e io gioco. Posizione persa in classifica perché la Juventus Next Gen ha battuto la fermana, ma l'Olbia che invece il Pescara aveva ampiamente battuto addirittura ha tolto punti al Ponte d'Era. Oggi Pescara settimo, cosa significa? Dobbiamo lavorare, lavorare duro e pensare alla prossima partita, portare a casa i tre punti e poi pensare ai play-off.